L'Umbria è in ripresa per le associazioni di categoria Confindustria e Confcommercio in primis, ma il discorso non vale per il mercato immobiliare. Lo dicono i dati relativi alle transazioni del primo semestre 2015 pubblicate oggi dall'Agenzia delle Entrate, che su ambito regionale fanno segnare un meno 7,7% rispetto al non già roseo stesso periodo 2014. Gli Umbri non comprano casa e non la vendono, vittime di un mercato che non accenna a risalire. Va malissimo il Ternano, con un meno 14 su base provinciale, meno 16 su base cittadina, ma anche il perugino non riesce a risalire la china con un meno 5 su Perugia Città, un meno 4 a livello di provincia. La peggior performance dei comprensori la detiene l'Eugubino Gualdese con un meno 19,4%, seguito dallo Spoletino con meno 18,3% e la Sisate meno 15,6%. Le uniche aree in cui si registra un incremento degli scambi sono quelle dell'Alto Tevere, Colli Trasimeno e Folignate. In totale le transazioni nel primo semestre 2015 in Umbria sono state 2.806. Per quanto riguarda le quotazioni medie, il dato regionale non registra variazioni significative rispetto allo stesso semestre 2014. Comprare casa nella provincia di Perugia costa in media 1.120 euro al metro quadro, ma Perugia può raggiungere anche 1.440 euro al metro quadro. Va meglio in provincia, dove la quotazione scenda poco più di 1.000. I dati aggiornati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Umbria documentano al momento 31.526 immobili in vendita, 12.510 in affitto. Per quanto riguarda la vendita, la tipologia più scambiata è costituita da appartamenti seguita da case indipendenti.